Proseguendo nel filone inaugurato l'anno scorso con la mostra a rischio della propria vita, in occasione del giorno della memoria a Palazzo dal Pozzo della Cisterna, sede della città metropolitana di Turino, è stata allestita una mostra dedicata a Jan Karski, il corriere dello Stato segreto polacco e del governo in esilio della Repubblica Polacca durante la Seconda Guerra Mondiale. La mostra è itinerante, è stata realizzata dal Museo della Storia della Polonia e dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia. L'allestimento a Turino è stato realizzato in collaborazione con la città metropolitana, il Consulato Generale di Polonia a Milano, il Consulato Onorario di Polonia a Torino, la Comunità Ebraica e la Comunità Polacca di Torino. Nel 1943 Jan Karski venne inviato presso i rappresentanti degli Alleati con la missione di raccontare il terrore seminato dai tedeschi in Polonia, compreso il genocidio degli ebrei. Fu tra i primi ad informare il mondo sulla politica tedesca di sterminio sistematico degli ebrei. I suoi interlocutori, purtroppo, non compresero le dimensioni dell'immane tragedia che si stava consumando nella Polonia occupata. Con la mostra che è dedicata a Jan Karski, che fu un emisario, un inviato secreto dello Stato clandestino polacco, vogliamo arrivare ai giovani, vogliamo arrivare ai studenti, vogliamo proprio promuovere la memoria storica di un individuo, un personaggio, una figura assai importante che con la sua dedicazione, con la sua grande missione, perché lui era un testimonio osculare dello sterminio che è stato fatto dai tedeschi nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Con questa mostra proprio vogliamo parlare dei valori universali, dell'etica e dell'eroismo, della dedicazione per le altre persone. È molto importante, oggi vogliamo parlare e essere assicurati della nostra civiltà, della nostra umanità. Quello che è stato negato a tantissime persone durante la Seconda Guerra Mondiale, che è stato messo in dubbio, è proprio vogliamo mantenere questa viva memoria e ricordare che questo non dovrebbe accadere mai più. Noi abbiamo il dovere di ricordare, abbiamo il dovere di continuare a fare queste mostre, a parlarne, a confrontarci, perché questa memoria continua a essere viva. Purtroppo si tende a dimenticare. Ogni anno che passa se ne parla sempre probabilmente troppo poco. Continuiamo a vedere che questi fatti ci sono anche non tanto lontano da qui. basta pensare a quello che sta avvenendo in Siria, che riporta subito alla memoria quello che accadde tra gli anni 30 e gli anni 40. Quindi parlarne, parlarne sempre e continuare a ricordare.